Ragazze, scusate, vorreste girare la ruota della fortuna? Di che cosa si tratta? Tu girala e vedrai Gira la ruota e vediamo cosa devo offrirti Oh Obbligo, se non vuoi fare l'obbligo, seguimi su Instagram e sei libera Va bene Gira la ruota e vediamo cosa devo offrirti, vai Oh Carbonara Questa carbonara gratis, ti ho portato in uno dei migliori ristoranti di Palermo Da cacio e pepe e pago tutto io Questo? Ancora? Basta Alla fine paghi tu Madonna per favore Questa è la tua carbonara, goditela perché non ti offro più nulla Va bene